buongiorno e grazie per l'opportunità di intervenire in questo confronto sono Gianluigi De Martino e sono un operatore dello sport un operatore dello sport a 360 gradi perché perché di fatto sono un lavoratore mi occupo di attività sportiva da ormai quasi 20 anni e sono anche però presidente di un'associazione sportiva direttantistica mi piacerebbe focalizzare un paio di punti in questo intervento il primo è che come operatore sportivo di fatto in questi anni ho sempre lavorato con una sorta di anomalia all'interno della mia posizione del mio inquadramento perché come lavoratore sportivo non ho ovviamente tutte quelle garanzie e quelle opportunità che ha un lavoratore tradizionale perché non ho tredicesima perché non ho quattordicesima perché non ho mutua perché non ho tfr perché non ho perché non ho tutta una serie di perché non ho che hanno caratterizzato la mia vita lavorativa di questi anni dall'altra parte però sono anche un presidente di associazione ricordiamoci che la maggior parte dei datori di lavoro se vogliamo dire così nel mondo sportivo sono il mondo associazionistico che in questo momento però si vede un po al centro di una rivoluzione in questo senso che non le vede però probabilmente ancora pronte sicuramente è importantissimo pensare a andare a rimettere a posto se vogliamo questo settore così importante dell'economia italiana non solo ma dall'altra parte pensando anche che è un settore molto delicato che ha delle figure lavorative particolari che ha un sistema organizzativo interno molto particolare e che deve rispondere a delle esigenze sia per il lavoratore ma anche per coloro che appunto sono gli erogatori di questo di questo lavoro il lavoratore sportivo deve trovare una sua dimensione propria perché ha delle caratteristiche particolari perché ha un mondo lavorativo fatto spesso di tante micro collaborazioni e non di un unico dato erogatore di lavoro pensiamo ai tanti istruttori come me stesso che lavorano per tantissime strutture palestre associazioni per le scuole e quindi è difficile poter pensare di interloquire con un unico soggetto attraverso il quale poter inquadrare diciamo così l'aspetto lavorativo penso che la necessità di mettere mano ad una riforma del lavoro sia assolutamente ormai attuale ma attenzione perché la delicatezza di questo settore soprattutto il fatto che per tantissimi anni non sia stato mai al centro di una reale discussione e di un reale confronto rischia di andare poi a diventare una piccola bomba d'orologeria per un sistema un meccanismo che coinvolge migliaia e migliaia di persone che a loro volta ovviamente come tutti gli altri hanno delle necessità proprie per la propria famiglia e per la propria vita quotidiana io purtroppo per a causa della pandemia ho dovuto tener chiusa l'associazione la palestra che conta quasi 700 soci siamo una filiata wisp e come noi tantissime altre palestre io personalmente per la prima volta nella mia vita ho dovuto ripiegare su un lavoro tradizionale sono stato assunto da amazon tanto per citare un colosso e però mi rendo conto che il mio futuro in questo momento come operatore sportivo è davvero molto incerto e come il mio quello di tutti i miei colleghi sparsi in tutta in tutta italia vorrei che invece la nostra passione le nostre competenze fossero davvero il fulcro della nostra attività lavorativa perché noi non ci fermiamo mai e non vorremmo che si fermasse lo sport grazie ancora